C'è anche il presidente della provincia di Pescara, Antonio Di Marco, tra i sei indagati per la tragedia dell'hotel Rigopiano di Farindola. La procura di Pescara ha notificato gli avvisi di garanzia anche al sindaco di Farindola, Ilario Lacchetta, al direttore dell'albergo Bruno Di Tommaso, a due funzionari della provincia di Pescara, Paolo Dincecco e Mauro Di Blasio, e al dipendente del comune di Farindola, Enrico Colangeli. Nella tragedia dell'hotel Rigopiano, travolto da una valanga di 200.000 tonnellate scesa dal Monte Siella lo scorso 18 gennaio, morirono 29 delle 40 persone presenti, tra ospiti della struttura ricettiva e personale addetto. Tra le vittime anche il proprietario Roberto Del Rosso, che nel piccolo paesino del Pescarese era riuscito a creare un resort di lusso frequentato anche da diversi VIP del mondo dello spettacolo e dello sport. Questa prima tranche di notifiche di iscrizione nel registro degli indagati sarebbe relativa ad una prima parte dell'inchiesta condotta dall'ormai ex procuratore capo di Pescara Cristina Tedeschini e dal sostituto procuratore Andrea Papalia, che procedono sulla base delle ipotesi di reato di disastro colposo, omicidio colposo plurimo e lesioni colpose. I magistrati intendono le responsabilità eventuali della provincia nella impraticabilità della strada provinciale numero 8, che ha tenuto bloccate le persone all'interno dell'albergo e se ci siano responsabilità rispetto ad una possibile sottovalutazione dell'allerta valanghe lanciata dal servizio Meteomonte. Il comune di Farindola avrebbe o no dovuto emettere l'ordine di evacuazione? Al momento invece sembra che i PM non abbiano rilevato condotte penalmente rilevanti nella famosa telefonata delle 17.40, quando Di Tommaso, sbagliando in buona fede, confermò ai funzionari dell'unità di crisi della prefettura che all'hotel Rigopiano non era accaduto niente di grave. Ne risultano al momento contestazioni sull'operato del prefetto pescarese Francesco Provolo.